Due nuovi piloti, un nuovo sponsor e la voglia di vincere di sempre. Sono questi i punti di partenza con cui il team BMW Motorrad Italia affronterà la stagione 2012 nel campionato Superstock 1000 e nel mondiale Superbike. Una sfida importante che si ripete per il terzo anno consecutivo sotto l'egida e le direttive dell'esperto team manager Serafino Foti. Era il 2010 quando per la prima volta BMW Motorrad Italia decise di istituire una squadra non ufficiale per partecipare alla Fim Cup Superstock 1000. Non ci fu scelta migliore. Ayrton Badovini conquistò il titolo in sella alla sua BMW S1000RR, vincendo 9 gare su 10. Il passo successivo nel 2011 fu quello di accedere al campionato mondiale Superbike, un anno di apprendistato che ha preparato il terreno e ha accumulato l'esperienza necessaria per affrontare la nuova stagione che si prospetta vincente. Campioni di fama internazionale come Marco Melandri, Max Biaggi e Carlos Ceca si troveranno a gareggiare contro il determinato Michel Fabrizio, pilota di grande bravura che ha conquistato 30 podi in tutta la sua carriera motoristica e che da quest'anno affiancherà l'esperto Badovini. A dare supporto alla squadra nel 2012 interverrà inoltre anche un nuovo sponsor, la società di bookmaker austriaca Goldbet, pronta a sostenere la coppia Badovini-Fabrizio nel mondiale Superbike e i giovanissimi Lorenzo Baroni e Silvian Barrier nella Fim Cup Superstock 1000.